fermo 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 stia calmo stia calmo non si agite ci do subito tutti gli euro che c'è nel portafoglio ma che cosa dici menchione? questo non era la rida si è ringraziato Santa Rosalia un coppia mi stava venendo a me lo sa? masturba te come? masturba te non ho capito che devo fare? ho detto che ti devi masturbare e ti metti da mazzo ma capiste? ma subito stia fermo come vuole lei? ma masturba ma ma masturba ma non ce la faccio ma te l'ho appena fatta non ce la faccio un uomo grande e grosso come a te una volta lo faci masturba altrimenti ti faccio saltare lo cervello subito 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 come a fare eh un attimo ammassare lo tuoi ora con un poco di concentrazione lo rifeci Cammela! Sì, Santuzzo! Ecco! C'è questo signore che si è offerto gentimenti di darti un passaggio fino a Ciavane! Grazie! Pizzica, che femmina! Mia moglie! La vedi che gente di cuore si trova sempre! Amo nena, picciola!